Finita la terza sfida si passa alla quarta che vede come protagonisti Daredevil dotato di un bastone da lui progettato chiamato Billy Club che gli permette di avere un'arma e un rampino di 9 metri sempre a portata di mano ha un udito e un olfatto sovraumano contro Psylocke una supereroina mutante dotata del potere della telepatia che le permette di paralizzare il nemico E ora prima del video spot pubblicitario Ehi tu si proprio tu che stai guardando questo video Ti piacerebbe shoppare tutte queste fantastiche skin tipo quelle dei supereroi tipo i bundle tipo uno tipo l'altro e nello stesso tempo vorresti supportarmi? Beh sei proprio nel posto giusto Infatti ti basterà semplicemente inserire il mio codice supporta un creatore ovvero ferro da stiro con due o come vedete sulla sinistra sullo schermo come vedete qua sotto di me nel negozio oggetti inserendolo ragazzi voi mi supporterete al massimo con ogni vostro acquisto quindi grazie mille a tutti quelli che lo faranno inseritelo anche perché ci vuole davvero un seco cioè tre, tre secondi facciamo comunque ci mettete davvero un attimo quindi grazie mille a tutti vi lascio al video Ricordo a tutti che utilizzando il mio codice supporta un creatore ovvero ferro da stiro mi supporterete al massimo ma non riceverete mai ricompense o regali in compenso Ed eccoci qua ragazzi in partita con la mitica Psylocke ragazzi voi direte ma chi è questa Psylocke? cioè lei in grado di guardarti ha grandissime potenzialità telepatiche e ti paralizza cioè non ha senso sta cosa è troppo forte comunque oggi forte o no sfiderà il mitico Daredevil ragazzi sarà una sfida super super divertente perché sono due entrambi molto molto forti e sarà bella come sfida sarà davvero bella comunque ci sta un sacco di gente al di fuori di casa sua e voglio vederla distruggere totalmente ok prima persona se è andata un pochino facilmente comunque questo qua aveva almeno ok scar ottimo che prendo valentieri ma io vorrei un fucile a pompa intanto questo mi push in una maniera cattivissima fermi tutti guardate ora guardate ora la mitica Psylocke fermi ma che cavolo no 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 fermi 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 piccolo problemino ma perché ci sta tutta sta gente ragazzi ma quanti cavolo di persone ci sono qua io sono messo ancora troppo cioè la mitica Psylocke ha messo ancora troppo male fermi però fermi tutti salto eh sì vabbè questo ragazzi vola non vola non si capisce che cavolo sta facendo allora fermi dove è andato? volato via? ma stiamo scherzando è seriamente volato via intanto proviamo a te agli unit quello sarà avrà uno di 23 ancora non ci credo dai ma non è non è possibile però che sfortuna vabbè ragazzi proseguiamo per la nostra strada facciamo finta che non sia successo nulla intanto non fermi 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 cavolo ma cosa vuole questo carlino? c'è lo spascia no no non è per nulla un carlino in più a uno di vita in questo momento no 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 perché miri me? perché miri me che io ti voglio bene? questo è un 2 contro 1 e non vale questo è un 2 contro 1 e non vale il problema è che posso usare solo la R perché non ho mazzo non c'ho nulla in questo momento comunque fermi buono buono ragazzi che cavolo è appena successo quanto cavolo è forte Psylocke con l'assalto? raga ho uno di vita e non sto scherzando davvero uno di vita quindi ho un attimo di terrore sinceramente no io sapete cosa vi dico? io ragazzi me ne scappo scappo là dietro che ci saranno i broccoli ci dovrebbe essere vabbè avete capito lì i cosi buoni da mangiare esatto mi dovrei ripullare almeno di vita che sarebbe un'ottima cosa ok ragazzi allora siamo messi molto molto bene in questo momento meglio come kill sinceramente neanche troppo perché ne abbiamo 3 siamo ancora in 53 però ricordatevi che chi va piano va sano e lontano quindi potrebbe essere anche questa una tecnica il fatto è che ragazzi siamo messi bene di loot di maz e di vita cosa che in genere gli altri personaggi gli altri supereroi non lo era mai quindi direi di non perdereci in chiacchiere no sono fermi fermi che ho visto un bello scudone che sinceramente si vado a prenderlo ragazzi perché voi saprete gli scudi sono rarissimi in questa modalità non so com'è possibile però nulla comunque svolazza in giro per tutti voi ovviamente ragazzi vi ricordo like iscrizione codice creatore ferro stiro con due ore negato oggetti fatemi sapere chi vince la seconda voi tra dar devil e la mitica xilo che detto questo andiamo a devastare tutto il resto della lobby fermi tutti ragazzi ci stanno delle persone là davanti un coniglietto praticamente ha uno di vita ragazzi fermi tutti fermi tutti fermi tutti ok perfetto uno killato è stato fermo l'ultimo secondo comunque fermi tutti devo svolazzare devo svolazzare quasi vi direi eh no 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 in realtà no non lo faccio curare proprio per nulla bella bro cioè ragazzi scusate però è questo che cavolo ci faceva vabbè facciamo vinta di nulla comunque coniglietti miei siete stati praticamente distrutti poveri miei coniglietti ma ora io vorrei altre persone quindi dove cavolo coraggioso ragazzi e ora addirittura mi ha fatto cadere ma quanto coraggio devi avere da una a centomila dai fermi un attimo ok no sarebbe stato super epica questa cecchinata comunque fermi tutti ok no 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 allora fermi questa cecchinata della vita ragazzi oggi col cecchino non ci siamo oggi psiloc non ci siamo col cecchino ragazzi è assurda sta cosa perché non mi escono le cecchinate non è possibile ferma no 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 basta basta adesso se no sclero ragazzi fermati un attimo let's go ragazzi 110 adesso si inizia a ragionare ragazzi ero solamente perché ha riftato perché ha riftato in più io adesso non voglio star fermo vorrei provare a hittarla ma se sto per stiamo scherzando 200 metri 1 in aria ma come cavolo ho fatto a killarla intanto avevo paura oh cavolo eccolo il suo amico eccolo il suo amico invece caro il mio amico amico tu non ti perché adesso ho messo tutti i colpi di AR prima non è no 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 ho finito i colpi no way ragazzi dai questo lo potevo laserare ma non ci posso credere comunque sto avendo un sacco di sfortuna in questo torneo ma che cavolo intanto ragazzi andiamo nel punto più alto della safe perché si ragazzi sta arrivando il fuoco e come sapete è distruttivo il fuoco toglie davvero davvero un sacco fermi eccolo eccolo ragazzi c'è un tizio che caro il mio amico non ti faccio ovviamente neanche jumpare cosa pensi che ti stia lì intanto questo si è buggato sulla jump proprio oh fermi tutti oh oh fermi guardate ciocchinata della vita aia oh ma quanta gente c'è fermi oh oh non va bene questa cosa non va bene per nulla io non sto capendo ora e ora non c'è neanche colpi assalto quindi piccolo piccolo problema ok 100 no 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 arriva questo amico no way no way ma tutti che devono riftare o così ma fermatevi un attimo per favore nulla ragazzi questo è sparito direi di andare nel mezzo del fight ok solamente 7 che ne servono altre per recuperare dar devil ok una qua una questa questa perfetto intanto col PR c'erano perfetto possiamo ricaricare attenzione ok attenzione forse un corno perché la mitica ragazzi psilow che è troppo potente col popa io non so cosa farci con lei cioè tira dei colpi assurdi e devasta completamente le persone poveri gli altri fermi tutti ragazzi si sono una brutta persona lo ammetto ma ragazzi è il momento è il momento di prenderci delle bellissime kill gratuite mai state così gratuite in realtà questa era proprio tenete prendete una kill mia e in teoria l'ho presa come no oh ma non è morto nessuno ma raga ma che cavolo sto vedendo oh non è giusta questa cosa raga ma si sono salvati seriamente ma beh complimenti complimenti tanto qua ragazzi c'è solamente la lava io adesso voglio capire queste persone qua come cavolo faranno ma beh devono solo buildare se per sbaglio si spacca una di queste costruzioni ragazzi tutti sono fregati cioè io vi dico solamente questa cosa intanto quella cosa la ok la stanno già facendo cadere se no l'avrei fatta cadere io fermi tutti fermi tutti eh si vabbè qua ragazzi poi c'è pieno di jump tutti ne approfittano allora io intanto me ne salgo qua la io direi di quasi spaccare sarebbe ragazzi la si spacca si aspetta un attimo e si spacca intanto ci chiniamo ma da dove cavolo ma mi stanno seriamente sparando da là fermi tutti fermi tutti no vabbè regà non ci credo io ho spaccato giusto il pezzo prima della jump ed è davvero no l'avevo preso regà vi giuro l'avevo preso non vale questa cosa ne sono sicuro che l'avevo preso comunque fermi stai parlando c'era davvero davvero davanti il coso ma che cavolo fermi bravo 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 io tiro un colpetto così muore ok è morto già comunque io ragazzi sto cercando chi l'abbastanza sempliciotte per portarmi a casa la vittoria questo gli ho mai ahia no 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 ok perfetto perfetto ragazzi questo qua l'abbiamo demolito il problema è che ho molta paura perché regà ogni volta che mi fermo anche solo un secondino mi sniperano in testa dopo la cosa che è successa con dark devil se non avete vista corretta a vedervi il video ho un sacco ma un sacco di paura intanto tentiamo ragazzi siamo a 11 kill regà in realtà siamo messi abbastanza bene però ne vuole altre ragazzi la nostra psiloc vuole altre kill vorrebbe arrivare alle 20 cosa attenzione invece 12 12 ragazzi è il momento devi pushare completamente tutti è partita ragazzi è partita chi mai più la fermerà adesso la nostra psiloc ragazzi intanto ragazzi fermi tutti fermi tutti che voglio provare a fare una cosa se io spaccassi queste cose senza essere ritato dalla lava magari no 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 fermi tutti no 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 scherzo cadrei anch'io no 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 fermi fermi tutti devo fare una cavolata comunque un 32 no 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 è finita ragazzi è finita quando spammano così tanto di minigun purtroppo neanche non ci credo fermi tutti fermi tutti non ci sto capendo nulla ma fermi fermi tutti no fermi tutti ragazzi non ci credo ragazzi potrei aver fatto una cosa davvero davvero assurda ok ragazzi l'altro tizio sta qua no 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 è bravo questo posso dire che è molto in gamba l'unica cosa che so è che anche la nostra siloca è davvero tanto in gamba fermi e ora almeno li abbiamo visti ragazzi ottima cosa fermi ok me l'ha praticamente lasciata sopra ok lei almeno è morta ha giampato nel momento la seriamone in volo e lesgo ragazzi un'altra che portate a casa intanto non ci credo potrei aver fatto le 20 chili invece no no perché per una kill non posso farle cose da matti ragazzi cose da matti tanto ragazzi fermi proviamo a far cadere là cosa quasi impossibile penso se non arrivano neanche a dire la verità là i colpi e attenzione invece l'ho spaccato fermi tutti fermi tutti ok non c'erano persone sopra aveva il jackpot non ci credo no no fermi però io voglio spaccare da là così almeno non c'è più nulla su cui atterrare ma questo gioco è buggato ragazzi vabbè ragazzi sapete cosa fare andiamo dritti per dritti così in centro safe così poi utilizzeremo il nostro bel rift o le nostre jump andremo a distruggere tutte le ultime persone e vinceremo questa super partita allora ragazzi le persone sono due uno che è quello che oh cavolo cioè ragazzi qua si possono vedere i colpi addirittura prima e provare a schivarli nel mentre che arrivano cioè incredibile sta cosa guardate siamo così tanto lontani io il colpo lo vedo molto prima intanto non ci credo fermi allora adesso mi proverò a sparare ma ok guardate guardate ragazzi come si possono schivare i colpi questa è una cosa davvero bellissima intanto no vabbè regà no vabbè regà 210 metri ma poverello questo si è proprio lasciato le penne intanto no vabbè regà no vabbè io non ci credo no vabbè regà non ci credo due cecchinate così quanti metri era questa no lo so ma psiloc con il cecchino più ferro da stiro con due ovviamente devastanti regà che dire un sacco di kill per la nostra psiloc delle cecchinate assurde una partita davvero strepitosa anche perché abbiamo fatto victory royale ovviamente andatevi a vedere anche il video di dar devil ditemi chi avrà vinto commentate sotto qua voi chi vincere al torneo chi avrà vinto chi più like possibili più tutto quello che volete ovviamente iscrivetevi al canale per non perdervi prossimi video e codice creatore per roda stiro con due o nel negozio oggetti fatelo che è molto molto importante per supportarmi grazie mille a tutti noi ci vediamo in un prossimo video ciao ciao